Vangelo di Giovanni del 5 maggio, commentato da Papa Francesco. Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco che cosa ha fatto Gesù, per noi, ci ha prenotato un posto in cielo. Non dimentichiamolo, la dimora che ci attende è il Paradiso. Qui siamo di passaggio. Siamo fatti per il cielo, per la vita eterna, per vivere, per sempre. Per sempre è qualcosa che ora non riusciamo neppure a immaginare. Ma è ancora più bello pensare che questo, per sempre, sarà tutto, nella gioia, nella, comunione piena con Dio e con gli altri, senza più lacrime, senza rancori, senza divisioni e turbamento. Ma come raggiungere il Paradiso? Qual è la via? È la via di Gesù protagonista della mia vita. Ci farà bene chiedere a Gesù che è la via, le indicazioni, per il cielo. E dopo avere ascoltato il Vangelo di Giovanni di oggi, iscriviti al canale per ascoltare quello di domani. A domani con il nuovo Vangelo.